Buongiorno a tutti, sono sempre Vittor Lasio Dandotto Allora, ieri è uscito il nuovo trailer di Spider-Man Homecoming Non ero ancora riuscito a fare la reaction Perché sono stato fuori casa tutto il giorno Quindi la recupero ora Come si suol dire, meglio tardi che mai Adesso guarderò il trailer che deve essere molto bello E non l'ho ancora visto E poi ne discuterò Quindi iniziamo subito che sono frumentatissimo Vai No dai Già solo quel frame è Spider-Man No dai Questo è Gun che è fatto e finito Non è lui il personaggio Ma esteticamente Uh, Capitano America Una volta Oh, a me è chitta ragazzi Cioè, magari sarà Anzi, sicuramente sarà il solito Villain Marvel Guarda che figata il costume con le tour No dai Avengers Tower Eh, madonna Mamma mia Eh, sta cosa della nave a me Ma il punto, sapete qual è? Eh, dai Madonna Iron Man è ovvio Il punto secondo me È semplicemente che questo Si va a essere proprio Spider-Man e fate finito Perché già in seguo si Madonna Eh, madonna Uh, ragazzi Keaton Non lo so perché ma Mesto avvoltoio dice qualcosa Però Non lo so Cioè, ma guardate ma tu che Ma che presenza ha La ragna spia che avevamo già visto nelle prove del trailer Madonna Madonna Ma quante sconte che hanno messo nel trailer Quante scine di sconte Non credevo Ok, dai Allora Innanzitutto Non è un trailer malvagio Però Non trovo neanche che sia Questo capolavoro Come Me l'avevano descritto Se vado a vedere Il trailer più bello del mondo Aggiunge qualcosina Rispetto al trailer precedente Che pure non era male Però secondo me È nella media Devo dire che mi ha gasato il giusto Ormai non manca molto Perché il film uscirà a luglio Siamo a fine marzo Quindi Pochi mesi E ci siamo Sarà qui il film Prima che ce ne accorgeremo E Innanzitutto Sono contento Di Vedere che i personaggi secondari Sembrano essere Ancora una volta Effettivamente importanti Perché già Nel primo trailer Il dubbio Mi era venuto Che Volessero puntare Sui personaggi secondari Qui Credo proprio Che ormai Sia chiaro Lo pseudogank Che in realtà Poi è un altro personaggio Che esiste Nell'universo di Spider-Man Secondo me Potrebbe darci Delle soddisfazioni Perché Ormai è chiaro Che per diversificare Rispetto alle Prosposizioni precedenti Del personaggio Abbiamo cercato Di tirare in ballo Anche L'universo Dello Spider-Man Di Miles Morales Quindi Hanno cercato di farlo Con i personaggi Comprimari Quindi Quelli più secondari Che siano tirati fuori Direttamente Da quei fumetti Però comunque Lui è Peter Parker Per cui Secondo me Ci sta questa cosa E poi Ho notato Che Iron Man Sembra essere Una presenza Abbastanza ingombrante Magari è solo Nei trailer Che è così Giusto per Attirare Più gente Al cinema Da un momento Che hanno capito Che Iron Man È il personaggio Più amato Del Marvel Cinematic Universe Anche se Non è quello più amato Da me Devo essere sincero Poi Hanno fatto i bastardi A mettere il cameo Di Captain America Nel televisore Insomma A come se devo dire Che si trattava Di un trailer Estremamente spoileroso In realtà Secondo me Neanche tanto Perché Non mi è sembrato Un riassunto Dall'inizio alla fine Sono rimasto molto colpito Dal fatto che abbiano Inserito così tante scene Di scontro Tra lui e l'avvoltoio E perché questa cosa Mi piace Ma da una parte Mi dà un po' fastidio Perché Perché ormai Con i film Marvel Soprattutto quelli Che raccontano Le origini Tra il personaggio Anche se questo Non è che racconta Le origini di un personaggio Ma È il primo film Su Spider-Man Come visione Del Marvel Cinematic Universe I villain Sono sempre Messe in secondo piano Ormai lo sappiamo Basti pensare All'impatto incredibile Che aveva il Casilius Di Mads Nicholson Nel trailer Di Doctor Strange E poi sappiamo tutti Come è andato a finire Se quel personaggio È rimasto Un minimo in mente Non è merito Della scrittura Ma è merito Solo ed esclusivamente Della bravura Dell'attore Che ha Una Un'espressività tale Da riuscire A fartelo Rimanere Nella memoria Ma solo per quello Perché il personaggio in sé Era senza fame Senza rode Tranquillamente dimenticabile Ecco Io Ho paura Che L'avvoltoio di Keaton Sia esattamente questo Un villain Che sembra Fighissimo Dai trailer Ma che poi In una sostanza Una volta Che lo si vede Sullo schermo Devo ammettere Che questa volta Però Mi ha dato Una sensazione Della madonna Nel senso che Di solito Sì Ti danno Sembrano fighi Però Non sono mai messi Così tanto In primo piano Cioè questo trailer È basato per metà Su 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 quello che fa Keaton Oltretutto Quanto cazzo è figo Il costume Cioè veramente Queste minchie di turbine Ecco Una cosa interessante Che abbiamo preso Uno dei villain Meno riconoscibili Dal grande pubblico Per quanto riguarda Spider-Man Perché l'avvoltoio Lo conoscono bene È giusto Gli appassionati Dei fumetti Sfido qualunque Spettatore occasionale Che conosco Un minimo Spider-Man A spiegarmi Chi cazzo sia L'avvoltoio Nome e cognome Cioè Del personaggio Prima che diventi L'avvoltoio Non lo sa nessuno Cioè Se tu vai D'uno spettatore occasionale Chiedi se sa Chi è il goblin di Spider-Man Ti dice sì Perché l'ha visto Nel film di Lamy Sa chi è Octopus Ma comunque È un villain Che vedi dispresso Anche nel Nel cartone animato Per cui L'avvoltoio Tra i secondari Era normale Che avrebbero scelto Un personaggio Del genere Da mettere In questo film Perché Era anche giusto Dovevano diversificare E Ho sentito molti Daventarsi Della scena Della nave Il perché Non lo so Ho sentito dire Ma come forse Dovessimo la nave Ragazzi Vorrei ricordarvi Che in Spider-Man 2 Fermava un treno Cioè E anzi Vorrei anche far notare Che questa scena Di lui Che tiene in due La nave È una chiara citazione Al secondo Spider-Man di Remy Peraltro Trovo che sia Una buona Una bella forma Di rispetto Non dimenticarsi Di ciò Che è stato In passato E quindi Di dire Si va bene Spider-Man è stato Tante cose Adesso è questa Però ricordiamoci Che c'è già stato Il cinema Ed è stato Direto anche bene Quindi Questa cosa Mi è piaciuta Poi ho notato Che Spider-Man In questo trailer È Spider-Man Cioè la scena In cui saluta Le persone Mentre passa Tanti alla vetrata Quella è proprio La cosa Che sarebbe Spider-Man Già abbiamo avuto Un assaggio Del suo umorismo In Civil War E Io Credo che Questo trailer Possa confermare Che stavolta Abbiamo uno Spider-Man Sullo schermo Che è effettivamente Spider-Man Cioè già in Civil War Quello era lui Era l'uomo ragno Era Spider-Man Era Il Peter Parker Come Ce lo si aspettava Preso dai fumetti Perché capisco Questa una spesizione Una trasposizione Fumetti a fumetti Il cinema Ma se tu trai Un film Un'opera originale Magari Un minimo di rispetto Me lo devi dare Io me lo aspetto Altrimenti Che cazzo Siamo tutti a fare Un brand Perché tanto Il tuo obiettivo È quello di portare In sala E fan E magari Creare un nuovo pubblico Però Non raccontiamoci Ste sfronzate Del Ma la trasposizione Una trasposizione No Perché altrimenti Fai qualcosa di originale E fai prima Io sono di questo avviso Quindi Capite che Anche il vederlo Minchionare Con tutte queste battutine Ci sta Questo forse è uno Dei pochi film Ma mi sono andati Universe Di cui accetterei La pioggia di battute Perché è ciò Che effettivamente Mi aspetto Da un film su Spider-Man Poi oltretutto Renderlo liceale Giovanissimo Con questa pseudo Mary Jane Che non è Mary Jane Però Quindi inizieranno La prendono a lontana Con i suoi amori Mi piace Quindi è proprio Credo proprio Che vedremo In toto Il supereroe Con super problemi Perché qua è proprio Il ragazzino Lo Spider-Man Ragazzino Piccolo Non l'avevamo ancora visto Perché lo Spider-Man Maguire Era già grande E secondo me Era quello che cozzava Era troppo 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 Sfigato Per essere Uno che dimostra Quell'età lì Nel senso che C'è capito Vorrebbero sforciartelo Come timido Ricciare Ma si vede Che è grande Si vedeva Che era Abbastanza grande O comunque Mostrava più anni Di quelli che ne aveva E poi Quello di Garfield Era un po' più fighetto Diciamo Questo invece Era più quello Di Ultimate Spider-Man Questo invece è proprio Lo Spider-Man Ragazzetto Per cui Vedremo un po' Che cazzo Avranno combinato Stai il fatto Che questo trailer Mi ha effettivamente Fatto salire l'hype Pur non essendo Un trailer Particolarmente Eccezionale Sta nel mezzo Per essere Il secondo trailer Non mi ha dato Nulla di particolarmente Eclatante Da farmi urlare Da miracolo Però comunque Non mi è dispiaciuto La scena Con l'amico Che si mette il costume È qualcosa di meraviglioso Veramente Perché lo vedi Questo spazio È cicciolissimo È bellissimo Quindi Io sono fiducioso Speriamo che L'avvoltoio di Keaton Non sia una minchiata Incrocio le dita Anche se Ormai la politica Del Metto il villain Sciapo È pressoché inutile Per evitare che Clissi Il protagonista Mi sembra abbastanza evidente Però Vedremo Magari Avendo Keaton Potendo fare il giochino Con Keaton Che è stato Birdman Che adesso Farà L'uomo uccello In un cinecomic Vero e proprio Fa anche abbastanza leader Quindi insomma C'è anche questa manovra Di marketing Che secondo me È ottima Per cui Vedremo cosa succede Io Vi sto scrivendo Un video qui sotto Cosa ne pensate Lo guardate Cosa ne pensate Lo guardate Cosa ne pensate Mi raccomando Sono curioso Per cosa ne pensate Voi Io vi abbraccio Grazie a tutti Se avete fin qui Ma tanto Ma tanto Ma tanto Ma tanto Ma tanto Ma tanto Ma non lo sentete bene Noi ci vediamo Al prossimo Murillo